Ciao lettrici e lettori, bentornati su Misfiction Books, io sono Tiffany e oggi dovevo farmi venire in mente un'idea per fare un video un po' leggerino perché comunque è raro ma anche io devo avere una vita e non posso solo scrivere i miei soliti pipponi quindi eccoci qua per una nuova puntata di Giudichiamoli Male, anzi malissimo, dalla copertina in onore di Issima e così vedete anche la mia anima trash che salta fuori detto ciò, come funziona questo video che avevo già fatto l'anno scorso, se non due anni fa, no l'anno scorso secondo me lo scopo è quello di giudicare, anzi un libro dalla copertina che è quella cosa che non si fa mai ovviamente parlerò delle prossime uscite che forse arriveranno in Italia e anche qualche cosa all'estero che sto ovviamente tenendo d'occhio ovviamente non si giudica un libro dalla copertina ma molti io li ho letti e quindi farà abbastanza ridere premessa ovviamente il mio contributo a questo video sarà semplicemente quello di illustrarvi un punto di vista più professionale, ovvero visto che come sapete io nella vita mi occupo di Art Direction ci sono io per risparmiarmi qualche giudizio su queste meravigliose copertine direi, no? no? cioè potevo non farlo ma è bene siamo qua prima di iniziare il video come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina giù così potete essere certi di essere aggiornati su tutte le uscite dei miei video e dei miei pipponi dopodiché se volete sostenere il canale potete farlo tramite Ko-fi giù trovate un link dove offrirmi un caffè virtuale oppure giù se volete seguirmi anche al di fuori di Youtube potete farlo tramite tutti i miei link ai canali social vi ricordo anche che i fantasy talks dalla settimana scorsa quindi da abbastanza recente sono anche su Spreaker e su Spotify e sulle altre piattaforme diciamo di distribuzione dei podcast quindi insomma se volete seguirmi anche lì mi è fatto un sacco piacere detto ciò direi di andare alla ciccia onde evitare sfighe? Eviterò chiaramente di citare la data d'uscita perché io non mi fido visto il periodo sappiamo che potrebbe andare tutto storto alla grandissima, alla stragrandissima proprio quindi vi dirò che e usciranno sono previsti, queste sono uscite previste quindi intruciamo le dita e speriamo il primo titolo del quale vi parlo è Falce di Neil Shusterman che esce per Oscar Volt a maggio probabile allora Falce ha mantenuto la cover originale dell'edizione inglese che per me è bellissima sono sincera soprattutto vedendola con tutta la serie questo è un lavoro grafico abbastanza semplice in realtà perché c'è un'illustrazione centrale su uno spazio praticamente beggiolino molto chiaro quindi chiaramente emerge parecchio si vede questa figura incappucciata rossa con chiaramente la Falce nera che emerge e si staglia il font che secondo me è molto adatto e molto pregevole perché poi richiama insomma queste spigolosità proprio della Falce quindi le punte e le punte taglienti chiaramente e poi insomma è in realtà molto semplice perché si basa su due colori oltre al nero quindi semplicemente il rosso e il beige rosso che ha diverse sfumature diverse gradazioni non lo so io devo dire che è un lavoro grafico veramente efficace molto bello e anche distinguibile perché in realtà è molto semplice c'è questa banda beige che taglia proprio il centro della copertina i lati c'è questa sfumatura rossa la più scura per me è un ottimo lavoro grafico quindi sinceramente non mi sento di dire nulla di negativo almeno per ora su questa serie la leggerò assolutamente sì perché sono molto molto curiosa in quanto ce l'ho sull'ebook da anni e ancora non mi sono decisa è una delle serie preferite di Andrea Belfiori quindi io sono molto molto curiosa e insomma vediamo ok? volete poi che in questo video non parlassimo subito della nonna casa? parliamo subito della nonna casa è chiaro che sarebbe andata a finire così allora il lavoro italiano della nonna casa ragazzi è un lavoro difficile e molto bello soprattutto perché si parte da una copertina complessa da replicare soprattutto nella sua compattezza, nella forza allora io ho questa versione che è quella col gradiente in realtà anche tutta nera a me piaceva molto di più tutta nera ma era già sold out quando io mi sono decisa a comprarla perché io non faccio i pre-order mai più dopo tutte le mie esperienze negative detto ciò la nonna casa secondo me in Italia ha una copertina meravigliosa quindi non so come dire font, molto visibile, molto ordinato, incasellato in fondo nonna e casa sono due parole di quattro lettere dove ci gioca questo serpente che è lo stesso dell'edizione americana non so io la guardo e sono orgogliosa sono molto contenta perché è veramente bella e io spero davvero che lo leggiate perché è un libro magnifico, complesso ma magnifico e quindi insomma sono contenta perché si è mantenuta la copertina con un ottimo lavoro grafico anche con la resina italiana che non era scontato perché davvero partiamo già da una parola che nonna casa non avrebbe significato molto in italiano la nonna casa già suona diverso il gioco è molto funzionale ed è molto riuscito quindi molto molto bello sapete che è una copertina che io amo e quindi insomma quando c'è questo font predominante quando c'è il carattere che predomina ed emerge così tanto sul fondo nero insomma poi l'edizione è bellissima ma io ce l'ho cioè ma io ce l'ho perché sto facendo l'asina comunque insomma come vedete poi ci sono insomma l'effetto è argenteo il serpente è in rilievo e il sottocopertina ha lo stesso gioco che c'è la copertina originale è bellissima raga è veramente bellissima quindi ottimo lavoro poi davvero con il lucido la lucidatura argento sul font come vedete crea dei giochi magnifici quindi niente sono molto contenta di questa copertina italiana vado avanti per un titolo che io invece ho già letto e quindi per me è impossibile non giudicare dalla copertina perché? allora ok il prossimo titolo del quale vi parlo infatti è Serpent and Dove che è stato tradotto come La strega e il cacciatore da Harper Collins che ha mantenuto totalmente l'illustrazione originale l'unica cosa che ha aggiunto è il sottotitolo in italiano allora devo dire che in realtà il lavoro grafico su questa copertina non è malvagio perché mescola questo font che si intreccia con effettivamente questo serpente il Dove qualcuno mi deve spiegare cosa centri e in cosa è correlato però io conosco l'illustratore lo seguo anche su Instagram che è molto molto bravo è molto molto interessante ha fatto una marea di cover e secondo me sono molto riconoscibili le sue cover detto ciò sinceramente c'è questa hand gigante fatta dal serpente dal corpo del serpente che è un po' troppo impegnativa rispetto al resto per gusto mio personale quindi mio personale io avrei davvero cambiato molto gli spazi anche perché sto serpente dentro questo libro non ci sta a dire un'emerità cippa quindi potevamo non dargli così tanta importanza detto ciò è comunque un lavoro grafico che secondo me è abbastanza riconoscibile e anzi penso che tutta la serie adesso sta per uscire il secondo uscirà il secondo insomma sono molto riconoscibili secondo me perché hanno questo fondo molto scuro questa scritta con dei gradienti oro con un effetto 3D abbastanza realistico e poi c'è questo boh c'è lì questa roba questo gioiello Broadway boh un po' a caso ecco ma soprattutto perché è a caso nel titolo però va bene ecco questo libro direi che io non lo posso giudicare solo dalla copertina perché il contenuto l'ho letto e è uno nella mia flop 5 dell'anno scorso è proprio al secondo posto tutto male tutto male però mi hanno detto che non lo posso giudicare cioè Elena mi dice che non posso sgridarlo troppo perché è un romance ma in realtà su Goodreads appare come un fantasy quindi vabbè posto vado avanti prossima cover della quale vi devo parlare è chiaramente la ballata dell'usignolo e del serpente che è il prequel di Hunger Games che esce in Italia attesissimo penso da tutti tranne forse da me che dire è brutto cioè non possiamo trovarci un altro modo la copertina è brutta non è colpa ovviamente dell'editore italiano che in questo caso è Mondadori Libri perché chiaramente riprende la cover estera che è in continuità con tutte quelle della serie per me le cover di Hunger Games è vero ai tempi quando uscirono in questo modo o nella riedizione non mi ricordo di preciso sono risultate abbastanza distinguibili che è poi quello lo scopo di creare una continuità nelle cover dovete pensare che ogni cover deve risultare distinguibile ed emergere quando uno si trova in libreria perché il colpo d'occhio cioè l'occhio vuole la sua parte chiaramente ma il colpo d'occhio riguardo la scelta dei libri è uno strumento molto potente in editoria detto ciò per me è brutta cioè è proprio brutta come cover a parte questo Hunger Games che va bene ha un'importanza esagerata rispetto anche al titolo dell'opera ed è normale perché ti deve attirare il fatto che sia il nuovo di Hunger Games non tanto che sia la ballata dell'usignolo e del serpente però brutto proprio brutto non lo so e non è un tipo di copertina che a me piace anche perché c'è questa chiaramente questa illustrazione centrale che non è nemmeno male è un po' direi che come impostazione un po' orientalista dal punto di vista proprio dell'illustrazione su questa spirale su questi livelli che ovviamente sembrano rappresentare in realtà un tiro al bersaglio e lo so a me non piace personalmente ma questo è un mio gusto personale quindi qua parlo solamente a titolo personale perché non trovo che abbia grandi difetti grafici anzi è impostata bene è impostata in modo da creare continuità con la serie a me non mi piace passo invece a The Bethrooted di Kira Cass allora io ho questa grandissima passione per la Kira perché io trovo che lei riesca a scrivere trashate immonde ma con una grandissima dignità perché a lei non gliene frega niente di risultare seria io questa cosa non lo so ho sempre avuto sto pallino che se tu scrivi trash consapevole di quello che stai scrivendo e non cerchi di elevarlo in qualche modo hai il mio rispetto assoluto Kira Cass secondo me rientra benissimo in questa categoria ora esce con The Bethrooted che è la sua nuova opera non so se e quando verrà tradotto in Italia all'estero esce io lo voglio leggere la sera in cui esce la storia praticamente niente c'è il solito triangolino amoroso in pratica promessi sposi che non si vogliono sposi vabbè ma chi se ne frega della trama tanto non è quello che ci interessa devo dire detto ciò The Bethrooted ha una copertina imbarazzante ovviamente perché c'è questa classica foto di Damina molto bella detto questo che però è chiaramente una valutazione cioè a titolo generale in realtà The Bethrooted fa tante cose corrette come copertina la prima è richiamare moltissimo la serie di The Selection perché se ci pensate tutta la serie di The Selection ha la figura centrale del soggetto con i suoi vestitini bellissimi e dei riflessi sui lato come se fosse specchiato questo è esattamente uguale è in oro il font bello lettering arzigogolato così è molto evidente quindi ben leggibile e secondo me la Kira Cass in questo caso ha fatto benissimo come lavoro è molto corretta cosa la differenzia secondo me da The Selection The Selection anche per una serie di colori aveva questo aspetto che richiamava sia al pubblico più giovane che anche un po' all'ambiente distopico perché i colori erano un po' acidi c'era questa saturazione eccessiva qua invece ci inseriamo chiaramente per i colori per l'impostazione eccetera in un ambito un po' più romance storico che non ha invece elementi di disconnessione anzi la nostra Damina chiaramente una ragazza bellissima con i fiori in testa il classico abito barocco però i toni sono tutti sull'oro è una copertina brutta perché è brutta però è molto in linea con il genere dove si va a posizionare che è quello fondamentalmente degli harmony chiamiamo harmony nel senso che sono comunque romance un po' sensualini probabilmente ma magari no e comunque va sui fantasy storici e per me è corretto e tra l'altro fa anche questo bel richiamo a se stessa eh secondo me funziona ve la butto lì vado su un altro titolo del quale non so assolutamente niente so solo che l'anno scorso l'avevo debellato dalla mia lista perché non mi ispirava neanche un po' si chiama fiore di sangue cioè blood leaf di crystal smith che è un nome chiaramente finto perché crystal smith vabbè niente io non so nulla di questo libro il titolo originale cioè quando uscì non mi aveva ispirato molto esce per rizzoli dovrebbe uscire a maggio vediamo la copertina in realtà a me piace se non per un elemento allora a me delle copertine cosa piace? piace quando ci sono dei lavori di grafica che si inseriscono tendenzialmente con il fondo cioè a me piace quel tipo di copertina quando c'è proprio soprattutto un lavoro di simmetrie a me piacciono tendenzialmente parecchio non in tutti i casi così qua non c'è tutto quello che a me piace anzi siamo ben lontani però alcuni elementi mi piacciono molto ci sono queste ramificazioni spinate che mi ricordano a court of thorns and roses c'è il regno ciao la corte di rose spine ci sono queste figure sui rami che comunque significheranno qualcosa c'è una luna c'è una corona c'è un albero c'è un corvo c'è un fiocco c'è un palazzo e una spada un pugnale boh poi è chiaro che al centro c'è il centro al centro in basso c'è l'elessar c'è la stella del vespro di Arwen cioè come la vogliamo chiamare vabbè è una roba simile che la ricorda con questo rubino che però ricorda anche una goccia di sangue detto ciò i toni secondo me sono molto interessanti perché c'è questo blu potente c'è il bianco con leggeri toni argente e mi viene da pensare interrotti solo dal rosso di questa goccia di sangue anche perché il sottotitolo di questo fiore di sangue è la magia più potente richiede il sacrificio più grande io non so dirvi nulla su questo libro non so niente non so ne manco la trama ma la copertina non mi dispiace devo dire avrei evitato il fiore lo so che si chiama fiore di sangue ma secondo me potevano farlo solo con un richiamino e c'è troppa roba bastava mettere le spine non c'era bisogno di mettere tutti quei richiami alle robe che saranno dentro la trama il corvo la luna tutto cioè boom ma non mi sento di bocciarla cioè comunque è interessante non so nulla del contenuto non so nemmeno se lo leggerò non mi aveva ispirato prima figuriamoci ora boh vado a un'altra uscita che in realtà è un secondo volume della serie di dream vlog di nk jamesine che molti di voi ovviamente conosceranno per la quinta stagione in questo caso non esce per mondadori per oscar e si vede tutto infatti esce per fanucci ed è abbastanza comprensibile anzi la copertina è proprio il minimo indispensabile dello spreco cioè è proprio brutta perché a parte che ricorda l'occhio di Sauron e vabbè è proprio brutta cioè sforzo zero ma vabbè ma qua al solito avranno comprato un'immagine da stock e messo titolo sopra brutto cioè tra l'altro si vede che il titolo ha una spaziatura troppo ridicola tra le varie rette la spaziatura è lo spazio che c'è tra una lettera e l'altra in questo caso e c'è la traccia ovvero il font viene scritto il carattere viene scritto come se fosse naturale senza allargare eccetera poi hanno messo la traccia cioè il bordino attorno che chiaramente praticamente fa toccare ma non del tutto lascia quello spazio infinitesimale che è fastidiosissimo secondo me cioè veramente è una copertina buttata via tra l'altro la prima cioè quella il volume 1 della luna che uccide che richiamava in realtà la copertina originale è totalmente diversa font del signore degli anelli ma ok vabbè lasciamo perdere ma tanto sappiamo di che casa editrice stiamo parlando sapete che io non ho molta stima se non zero in questo caso veramente io sono boh perché non è come quella originale nonostante ne richiami il fatto di questo cerchio infuocato tra veramente miseria e magari è una serie bellissima perché comunque è un'autrice molto stimata e molto amata devo dire ma boh potrebbe essere la copertina di qualsiasi libro fantasy X di qualsiasi autore emergente X che boh non lo so vabbè andiamo avanti perché sennò vi mecco anche una denuncia cioè io detesto mi fanno proprio arrabbiare i lavori approssimativi soprattutto in editoria perché porca miseria hai tra l'altro un'autrice che sinceramente è una signora autrice perché devi fare queste copertine ma non ci vuoi neanche impiegare un pochino di cura non ci tieni neanche un po' cioè tanto sai che vende ma non funziona così passora mi calmo non ho neanche messo il rossetto oggi vado avanti e il prossimo titolo del quale vi parlo è La Grazia dei Re di Ken Liu allora La Grazia dei Re che io leggerò assolutamente perché mi ispira moltissimo questo autore peraltro super affermato vincitore praticamente qualsiasi premio esistente nella terra allora La Grazia dei Re devo dire che riprende ovviamente la copertina originale quindi su questo sono stati molto rispettosi è una copertina che a me fa impazzire mi racconta qualcosa in particolare vedendola no perché non l'ho letto quindi se io dovessi basarmi solo sulla copertina sinceramente lo balzerei alla grande ve lo dico sinceramente non perché sia un brutto lavoro anzi è abbastanza semplice perché c'è questo fondo scuro dove si staglia fondamentalmente il nostro soggetto principale e anche nel secondo volume che è già stata annunciata la copertina si riprenderà esattamente lo stesso stile vi devo dire la copertina non mi emoziona perché a me non piacciono tendenzialmente le copertine di questo tipo mi ricordano le copertine dei fantasy vecchi e tendenzialmente che a me non piacciono però ho grande fiducia in questa serie quindi devo dirvi che se dovessi prenderlo per la copertina mango boca se invece mi baso su più elementi poi comunque devo dire che l'unica cosa che mi incuriosisce veramente della copertina è in realtà la simbologia perché è chiaro che in questo elmo quindi c'è qualcosa su uno scontro una battaglia una roba epica cresce un fiore quindi c'è un qualcosa che mi ricorda la speranza non lo so devo dire lo leggerò però se dovessi veramente basarmi sui sentimenti che provo per questa copertina poi nel senso anche il font il font è veramente un bastoni basic qua la spaziatura ce n'è in abbondanza come vedete rispetto a prima abbondiamo e diciamo che non mi fa impazzire ci sono tanti lavori migliori e tanti lavori più interessanti dentro il catalogo di Oscar sapete che io voglio un sacco bene questa casa editrice e non è nemmeno colpa loro perché hanno ripreso tutto il design originale ecco se mi dovessi basare solo sul design non la leggerai mai però letto la sinossi e letto un po' i vari premi che ha vinto letto un po' le opinioni su Goodreads io devo dire che ovviamente la leggerò allora passa invece a The Loop di Ben Oliver che è una serie che ovviamente nessuno sperava che uscisse ma figuriamoci però esce praticamente in parallelo sia in Italia che all'estero devo dire ed esce per Rizzoli allora è sicuramente guardandola una serie che ha a che fare con l'ambiente sci-fi l'ambiente distopico è abbastanza evidente a me questa copertina piace moltissimo questo è un tipo di lavoro che a me proprio fa impazzire allora la copertina ovviamente si basa su questo font chiaramente impostato quasi come come isometrico potremmo dire ovvero crea una prospettiva di profondità su un piano insomma quelli che facevamo noi alle alle medie in tecnica no quelle cose dove io facevo dei disastri perché non ho mai saputo fare le robe con precisione finché non ho avuto ovviamente un computer che lo fa al posto mio detto ciò a me piace davvero tanto soprattutto mi piace perché è molto scuro lo sfondo ci sono questi bagliori dati dall'azzurro con questo alone azzurro e questa che io non riesco a capire che cosa sia cioè mi sembra una prigione mi sembra un appartamento cioè mi sembra quasi anche un labirinto questa scritta l'umanità finisce qua è molto interessante non so dalla copertina mi intriga davvero molto veramente molto molto bello un ottimo lavoro grafico soprattutto perché vabbè io amo le copertine dove il font è predominante è abbastanza chiaro che sia così bellissima è veramente molto bella cioè dico non sapevo nulla di questa uscita facendo le mie ricerche l'ho trovata e mi ha colpito la copertina e quindi sono curiosa altra uscita della quale non sapevo nulla ma che ovviamente ho beccata nelle varie ricerche in questo caso ci troviamo su un sci-fi di stampo robotico di stampo insomma chiaramente distopico e la trama mi ha ricordato in qualche caso alt red carbon però in maniera molto distante però vabbè esce per frassinelli lascia mi andare di katie m flynn in questo caso la copertina a me non piace non piace perché mi ricorda tra l'altro cose già viste soprattutto nelle copertine e perché a me non piacciono le copertine con i volti a meno che non sia un lavoro pazzesco dal punto di vista grafico o fotografico in questo caso vediamo questo questa sorta di ritratto tagliato con questi colori neon tra i toni di magenta e viola abbastanza saturati che fanno futuro non è un brutto lavoro grafico è molto semplice in realtà vi dico dalla copertina non lo comprerei mai non so se lo leggerò devo dire perché comunque ha degli elementi che mi interessano perché comunque la trama sembra abbastanza interessante però vi devo dire boh secondo me si poteva fare abbastanza di più anche perché la copertina originale in realtà è più interessante ha questo lavoro abbastanza interessante facilmente replicabile ma immagino non abbiano acquisito i diritti come succede sempre in ultimo invece parliamo del nuovo romanzo di Elisabeth a se vedo di cui io so pochissimo ma ormai sapete come vi dico da diverso tempo che Elisabeth a se vedo è una delle mie autrici per ragazzi preferite perché veramente è bravissima cioè è bravissima non si può dire nient'altro in questo caso il suo nuovo libro si chiama Clap When You Land che dire una delle due raffigurate qua è chiaramente Elisabeth a se vedo cioè la ragazza con i capelli lunghi sciolti è chiaramente lei ed è una sua classica copertina da un lato perché in tutte le sue opere ci sono sempre dei volti devo dire che in questo caso boh se dovessi prenderlo per la copertina non lo so se lo comprerei c'è questo nuovo trend in America di mettere davvero un'illustrazione anche divisa il font così distanziato cioè le varie parole così distanziate eccetera e c'è questo background dove un pochetto insomma si racconta una storia c'è questa ragazza chiaramente from the hood perché c'è dietro una scala che ricorda il quartiere che è un tema ricorrente nelle opere di Elisabeth a se vedo c'è invece una ragazza con quella che sembra una foglia sembra della natura non so non riesco a capire e poi questi due orribili aeroplani che interrompono e dividono il tutto non lo so avrei provato magari a giocare su altre cose soprattutto perché c'è il clap di mezzo quindi magari potevano giocare con le mani potevano fare un altro tipo di impostazione non lo so l'illustrazione è una ricorrenza nelle sue copertine e questa volta secondo me l'illustrazione non è male per nulla anzi è molto carina non mi piacciono quei due ributtati lì che dividono tutto è veramente anche un po' violento anche perché c'è questo blocco marrone scuro nero che secondo me gli fa perdere molta forza perché poi tra l'altro l'illustrazione è molto più dettagliata chiaramente poi vedi questi due vettoriali giganti blacconi che si stagliano lì sopra non lo so potevamo fare meglio spero che questa non sia l'unica copertina disponibile detto ciò niente io oggi forse sono arrivata in fondo con un video che spero sia relativamente breve quindi insomma vi è piaciuta questa puntata di giudichiamoli male anzi malissimo dalla copertina per la rubrica più stupida di questo canale detto ciò ogni tanto serve anche a me dire delle scemenze mi diverto molto insomma ditemi invece voi tra quelle che vi ho elencato quali vi piacciono di più o se ci sono delle copertine che vi piacciono particolarmente io chiaramente le vedo sempre anche con un occhio un po' da chi le copertine le potrebbe impaginare cioè che a me è capitato e capiterà nella vita è molto complesso fare delle copertine efficace è una delle cose più difficili che esistano non rispetto a tanti altri lavori grafici però chiaramente è una cosa complessa anche se molto entusiasmante devo dire che sono molto contenta perché finalmente il grosso dell'editoria italiana mantiene e compra i lavori grafici che sono stati fatti all'estero e quando non lo fa tendenzialmente rielabora delle copertine che abbiano una linea grafica propria e che diano una dimensione e una dignità anche all'edizione italiana ovviamente come abbiamo visto non è il caso di tutte le case editrici ma non possiamo pretendere tutto detto ciò io insomma è una cosa a cui presto sempre molta attenzione essendo il mio lavoro e l'aspetto estetico è molto importante è una delle cose a cui io presto veramente più attenzione non più del contenuto anzi come sapete bene il contenuto è una delle cose che cerco di rielaborare di più però insomma penso che sia davvero molto importante niente oggi siamo arrivati in fondo io spero di avervi tenuto compagnia con i miei sproloqui e che questo video vi sia risultato carino quantomeno o interessante ricordatevi di lasciare un pollicino in alto sul video fatemi sapere giù nei commenti quali sono i vostri preferiti e direi che per tutto il resto ci vediamo al prossimo video ciao